Le due formazioni impegnate questa sera hanno a loro modo superato gli ostacoli di ottavi e quarti ma solo una uscirà vincente da questo penultimo atto è la prima semifinale di Coppa Italia e Totti Wisi Frosinone dall'Atletico 2000 a raccontarvi il match Emanuele Colombo e Federico Leoni. Il velo poi il tiro centrale Vetroni respinta corte poi errore di Ponziani non da Ponziani verso Carlucci Ponziani recupera attenzione ingenuità di Nardi Ponziani in area di rigore esce Vetroni gli chiude lo specchio della porta la rincorsa di Moscardelli sinistro dritto per dritto contro la barriera ci riprova poi col destro Silvani non colpisce il doppio intervento del portiere ancora in area di rigore. Silvani finta di scappare poi viene incontro carica al destro e lo incrocia conclusione violentissima palla sul fondo poi è rischiato comunque la frittata il Frosinone sulla respinta da parte di Burini ora giura deve allungarsi per controllare non ci riesce Carlucci allora entra in area di rigore a tu per tu con Vetrone. Ancora si ferma a coprire il buco lasciato da Del Moro in posizione molto avanzata Moscardelli si gira sterzata col tacco Mancino di Moscardelli la palla sfiora la traversa è sempre largo quasi per stare la linea dell'out Mancino. Mazzone di prima da Moscardelli protegge palla incrocia all'angolino e in avanti il Totti Wisi con il ritorno in campo e al gol di Davide Moscardelli. Ad agganciare sulla rimessa laterale giocata da Zeno quella del Totti Wisi invece arriva Silvani la chiusura di Milan che copre con la figura lo specchio all'88 del Totti Wisi. Davanti alla panchina avversaria muove palla l'undici Berretta centrale saltato Mazzone Berretta piazza con il destro attenzione rischio di parapiglia Zeno allontana Ponziani grande lavoro con il fisico a servire poi Fofi due contro tre Fofi calcia col Mancino palla sul palo a Vetrone battuto poi Ponziani e Vetrone torna decisivo tiene avanti il Totti Wisi. Tare via ma c'è sempre Cocuz a tenere vivo il possesso del Wisi poi Mattozzo vince un rimpallo e Burini qui salva forse a Milan anche battuto so a crederci dopo il rimpallo ed è ancora il 20 che apre gioco per giura se la sistema per il cross arriva morbido Tabarini sul secondo palo raddoppio del Totti Wisi fa 8 gol in fila Giuseppe Tabarini che riscarica da Cocuz ve lo rischia qualcosa sulla pressione di Ponziani il Totti Wisi poi Silvani mandato anche dalla pressione a calciare tiro bloccato da Milan in due tempi prosegue la staffetta tra Mattozzo e Tabarini di nuovo in campo l'undici schiaccia Moscardelli non trova lo specchio va a cercarsi il fallo non lo trova la palla arriva Moscardelli mancino incrociato a Milan battuto perché non c'è arrivato continua Carlucci intanto si coordina e va a calciare con uno splendido gol in rovesciata Berretta accorcia le distanze sul finale ora si aspetta il recupero gol fantastico di Berretta non trova Tabarini recupera Berretta se l'allunga un po' nel secondo controllo logello alza palla non trova la porta ma arrivano i tre fischi con un 2 a 1 di misura uno spauracchio finale il Totti Wisi la prima finalista della Coppa Italia 2022-2023 2023